I palazzi ATER di via Osento nel quartiere Rancitelli di Pescara sono stati messi in fondo alla graduatoria delle priorità della regione Abruzzo per l'assegnazione dei fondi del PNRR destinati alla riqualificazione dell'edilizia popolare pubblica. Una scelta incomprensibile e inaccettabile secondo il vicepresidente del consiglio regionale e consigliere del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari che all'ATER aveva comunicato e illustrato lo stato di degrado degli edifici tanto da portare l'azienda ad inserire gli interventi strutturali per questi alloggi tra i primi posti della lista. Il regione Abruzzo beneficerà di circa 50 milioni di euro del PNRR, ha redatto una graduatoria e purtroppo abbiamo scoperto che Viosento, che a mio avviso sono i palazzi messi peggio della provincia di Pescara che necessiterebbero quindi di interventi urgenti, è stato messo in fondo alla graduatoria al 64esimo posto con i fondi a disposizione, loro finanziano fino al sessantesimo posto, quindi fino al sessantesimo intervento. Quindi vergognosamente Regione Abruzzo ha stirato una graduatoria escludendo Viosento. Noi più volte abbiamo denunciato questa cosa, l'ATER ci aveva rassicurato che si sarebbero fatti i lavori, purtroppo la graduatoria la stila a Regione Abruzzo e Regione Abruzzo ha scelto questa cosa. Quindi l'appello forte, la denuncia forte a Regione Abruzzo di correre subito ai ripari, il Presidente Marsiglio, l'assessore Rilis, alle case popolari devono correre immediatamente ai ripari, utilizzare fondi propri, perché qui ci servono 2 milioni e 800 mila euro, trovassero 2 milioni e 800 mila euro nelle maglie del bilancio per ristrutturare queste case e metterle a norma, perché i cittadini così non possono più vivere. È una situazione completamente indecente, ci dicono che i soldi non ci sono. Noi soldi ci sono, perché non voglio fare polemica, ma si trovano 14 milioni di euro per regalare al ritiro di una squadra di calcio, del Napoli Calcio a Castel di Sangro, perché Regione ha previsto questo stanziamento e poi non si trovano 2 milioni di euro per mettere in sicurezza i palazzi di Viosento. Eh no, non ce lo possono dire. Esasperati gli inquilini che ora chiedono risposte alla politica. Abbiamo i muri che si stanno sfarinando, io l'ho fatto presente anche all'Ater e praticamente ho detto, ma muri portanti poi. Eh ma il signore ma non crolleranno? Come non crolleranno? A un certo punto dai e dai sotto c'è l'acqua, sotto c'è l'acqua. E poi noi siamo arrabbiatissimi perché entro giugno ci avevano assicurato, sempre andando con il nostro, meno male che ci sostiene, il consigliere Domenico Pettinari, che entro i primi sei mesi quando devono iniziare i lavori. Perché siamo finiti? Allora il presidente della Regione, dico bene, il signor Marsilio, è stato al ferro di cavallo. Allora come ti preoccupi del ferro di cavallo? Perché non vieni anche qua in Viosento a vedere le case? Che poi oltretutto sono due, diciamo tre palazzine sono e allora che ci vuole? Questi soldi dove sono? Perché non sono stati impegnati per queste case che stanno crollando e poi si dice male a Domenico Pettinari, eh no.